Il podcast di Prince William sarà il primo di molti poiché il duca di Cambridge è pronto a rivelare un po' di più su Kate Middleton, ha affermato un esperto reale, il principe William, 39 anni, ha condiviso un toccante momento familiare in un tour audio a piedi registrato per Apple, e ha descritto come Diana, principessa del Galles, lo ha portato in un rifugio per senza tetto per insegnargli l'importante lezione. C'è vita fuori dalle mura del palazzo. Durante la sua registrazione, effettuata mentre passeggiava per la tenuta della regina a Sandringham, il futuro re ha coperto una vasta gamma di argomenti, dall'effetto emotivo del lavoro come pilota di un'eliambulanza all'essere fuori dalla sua zona di comfort cantando sul palco con Taylor Swift e John Bon Jovi. Ma l'esperto reale Neil Sean ha affermato che questo podcast Scommetterà il primo di molti, parlando sul suo canale YouTube, Sean ha dichiarato, lascia che ti dica la traccia interna, questo sarà il primo di molti podcast del principe William. Non vediamo l'ora di saperne di più sulla duchessa di Cambridge. Non vedo davvero l'ora perché a parte alcuni discorsi, non puoi scoprire la vera persona. Mi è stato detto che è davvero deliziosa e ci credo davvero, ma non sarebbe bello sapere un po'. Di più sulla sua vita lavorativa come reale, nella chiacchierata sincera, William ha detto che gli piace ancora segretamente la canzone di Turner The Best, uno di un numero che Diana suonerebbe per alleviare l'ansia mentre riportava lui e il duca di Sussex a scuola, che si pensava fosse Ludgrove nel Berkshire. Il duca ha detto, perché seduto sul sedile posteriore cantando, è stato come un vero momento di famiglia. Mia madre guidava. Cantando a squarciagola e portavamo persino il poliziotto in macchina, lui di tanto in tanto canterei anche insieme. Con il canto degli uccelli in sottofondo, ha aggiunto, stavi cantando e ascoltando musica fino ai cancelli della scuola quando ti hanno lasciato ed è allora che la realtà è in qualche modo affondata stavi davvero tornando a scuola. Grazie a tutti.